Gennaio 1558, Kingsbridge, quando il giovane Ned Villard, figlio di un mercante protestante innamorato di una ragazza cattolica, fa ritorno a casa e si rende conto che il suo mondo è cambiato. Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata, testimoni di una città lacerata dal conflitto religioso che Ned dovrà lasciare per diventare uno degli uomini chiave del primo servizio segreto, agli ordini di Elisabetta I.